Nadia Centoni al Corso Nazionale di Formazione per Esperti di Preparazione Fisica nella Pallaburo alla Scuola dello Sport del CONI. Come hai vissuto questa esperienza? Per me questo corso è stato veramente un'esperienza fantastica. È cominciata quest'estate e spero che si concluda adesso con la prova finale qui alla Scuola dello Sport. È stato veramente un percorso formativo importante del quale avevo bisogno. Sono ancora un'atleta in attività, quindi è ovviamente importante studiare, giocare e pensare a quello che sarà un domani. Quindi mi hanno dato veramente grandissimi spunti, persone molto preparate, esperte, qualificate. Veramente sono contentissima e veramente dico il consiglio a chi vuole entrare nel mondo della cooperazione fisica. Quali sono le tue motivazioni e i tuoi obiettivi per il futuro? La motivazione principale per partecipare a questo corso è stata che come attività sto pensando al futuro, a quando smetterò di giocare con la palla sul campo, quindi a cosa farò da grande. Attualmente ho una preponderanza, mi piace molto di più il lavoro fisico, magari perché no domani fare un percorso di allenatore, però non tanto volevo fare questa strada di preparazione fisica, la palestra e tutte le sue sfaccettature di formazioni, prevenzioni, infortuni. È un campo che mi piace molto e con questo corso lo sto esaldendo appieno. Potendo scegliere una squadra dove svolgere questo nuovo lavoro, quindi esperta in preparazione fisica da pal lavoro, quale club sceglieresti? Punto nato, nazionale.